Grazie Appena ho fatto una rimandata Guarda, prima vado a seguire gli spiegaccio avanti Vedi, ho portato il calcio avanti e più Ok Adesso Se io rimane qua che non mi resta Ma Ma la maggior parte dei calci Dice come difende questa cosa Allora vado io a piedi Esatto, vado a spostarlo a piedi Adesso cosa succede esatto Lui dipende perchè non mi fa mettere la scherza Allora comincio a pensare, bravo Appena ti prendo lo strangolamento vado a mettere il gaccio Adesso vedete che Sto faccio nel passivo La mano metto da sotto e va a continuare L'avambraccio Stingo E lo faccio Il braccio Stingo E porto la mano piano 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 Quando ho la spalla Devo solo aprire Portare il fico E che deve andare a Leo e tu che ti prendi E' un'altra 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 Un'altra